Ciao, sono Giorgia Lepore. Sono Gerola Marchieri. Sono Marina Tagliaferri. Sono Cinzia De Carolis. Sono Achille Daniello. Sono Servaggio Aquattrini. Io sono Lorenzo Crisci, la voce di numero 5 di Umbrella Academy. Brenda Walsh, di Beverly Hills 9210. Pinguino Kovarsky, ad esempio. Sono un'attrice di Un posto al sole e sono anche una doppiatrice. Bob Pippe, in tua storia. La principessa Fiona, di Paz Vega. Maurice, il mostro degli ormoni in Big Mouth. In questo momento di emergenza tutti possiamo fare qualcosa. Io ci metto la voce. Sono una voce per lo Spallanzani. E sostengo la ricerca sul Covid-19 e le attività assistenziali. Io dono e resto a casa. Io dono e resto a casa. Io dono e resto a casa. Dona anche tu. Dona anche tu. Dona anche tu. Dona anche tu. Dona anche tu.